ciao ragazzi eccoci di nuovo qua su star citizen anche questa sera con una piccola guida allora questa sera cosa andiamo a vedere andiamo a fare una guida su tutto quelli che sono i moduli o i mount della nostra nave cioè tutto quello che è modificabile della nostra nave allora la faccio breve perché tanto comunque sarà soggetto soggetta revisioni cambiamenti nel tempo eccetera eccetera mi è inutile soffermarsi troppo però ho visto che qualcuno ha delle difficoltà allora innanzitutto vi invito aprire il sito cercare la nave che vi interessa o la vostra o comunque una cui volete fare l'upgrade e andare a verificare quelle che sono i size del dei moduli che montate anche se comunque il sito non è proprio proprio affidabile perché ad esempio la catlas come potete vedere c'è il vecchio modello non c'è quello nuovo però comunque i size sono rimasti quelli allora m corrisponde o size 2 per i moduli interni altra cosa che ho visto che qualcuno ha qualche difficoltà è la lettura di questi numerini qui allora tutti quanti le navi sul tecnica overview tutte le navi volabili ok hanno la leggenda dove vi spiegano che cosa c'è scritto su quei su questi esagoni allora per prima cosa vi dice il size ok della mount cioè vi dice guardate che tu hai dei rack cioè il rack è dove si possono tenere i missili ad esempio questa size 4 cosa significa che i tuoi missili saranno size 3 non è detto potete mettere anche dei size 2 però su un size 4 bene che viva mettete un size 3 perché vi ricordo ogni size della torretta del posto dove potete mettere una mount se ci mettete qualcosa cala di uno come un po quelle che sono le armi con i jimbal cioè se voi avete un size 3 e montate un jimbal vi cala di uno il size dell'arma stessa cosa per i missi avete un size 4 mettete un rack qui ne potete tenere benché vada tre missi e i missili set 3 perché dico bene che vada perché volendo potete scegliere anche di ira che ritengono più missili però di livello 2 2 o 1 poi sopra che vi dice vi dice quante raccavete e quanti missili per rack può tenere la nave anche questo numerino qua ad esempio questa nave dovrebbe tenerne 24 fino alla pace scorsa era così cioè non è che fino alla pace scorsa la pace scorsa ce n'erano 24 adesso ce ne sono 16 è variabile perché ragazze ancora comunque stanno bilanciando le navi stanno comunque le stanno rimappando per quanto riguarda i danni e è tutta in un'evoluzione per questo è inutile che ci perda tanto tempo non perché non sia importante l'argomento però perché comunque è soggetto a tantissime revisioni quindi prendetelo con le pinzette ma dov'è che noi troviamo veramente le informazioni su quello che è sono i moduli della nostra nave e dovete aprire il gioco lì sicuramente li trovate allora ragazzi eccoci qua sul gioco dove dovete andare su arena commander andate qua selezionate ship customization selezionato la vostra nave sulla sinistra avete tutto quello che c'è all'interno di tutti i moduli che ci sono all'interno della vostra nave su miscellanius qui trovate i missili system i moduli interni poi poi tutto quello che è il nostro momento con cui spariamo andiamo tipo su systems allora system in questo momento cosa posso cambiare io quello che è il dissipatore quello che è il refrigeratore il power plant quindi il generatore di energia e il generatore di scudi allora qua sotto in basso trovate cosa l'importante il size perché vi serve il size perché dentro il gioco non è suddiviso in basta la vostra nave quindi dovete andare a cercare oggetti che sono del size giusto o qui so renta l'items invece cosa avete avete molte più informazioni questi sono gli oggetti che voi potete noleggiare per ricordo tre giorni momentaneamente tre giorni vi ricordo che sono tre giorni singoli cioè voi iniziate usarlo parte un giorno se non lo usate più la nave gli altri due giorni vi rimarranno da parte la utilizzate scala un altro giorno e via dicendo finché non l'avete finito che cosa vi dice oltre vabbè al costo per noleggiarlo il size 2 me lo dice anche qualche manufactor ok grado c e classe industrial allora qui c'è tutto un discorso da fare su quelli che sono i moduli allora innanzitutto dobbiamo parlare tutti quelli moduli che verranno implementati con la ship matrix allora non ci sono solo questi verranno implementati a breve che cosa power plants va bene coolers abbiamo visto generatori shield il radar quantum drive jump drive computer e field tanks allora tutti questi oggetti al di là delle fuel tanks perché vabbè con le navi hanno una classe di grandezza ok che sono vie col che per appunto che vuoi essere la gip la moto l'over il car armato lo stecas così small navi piccoline medium large capital e navi quelle giganti gli tem grace cosa sono invece sono quattro a b c d partiamo dall'ultimo più scarso che di che è quello proprio pessimo grado pessimo quello del peggio che potete trovare il c è lo standard quindi comprate una nave di in dotazione avete il c b e a sono delle classi che possono essere implementate con dei sotto oggetti allora la b è un buon oggetto che comunque la colla comunque la possibilità di fare l'upgrade a è il top che potete trovare sul mercato top proprio indiscusso anche quella con possibilità di upgrade che grid possiamo fare ci sono dei sub items che possiamo mettere che verranno implementati e cosa vanno a migliorare l'efficienza fondamentalmente la protezione e quello che è lo spot detection cioè il radar ad esempio potremmo migliorare qual è la sua capacità nel rilevare fonti quindi potrà trovare per chi fa mining più minerali per chi fa fighting più contatti eccetera eccetera per quanto riguarda invece le classi classificazione degli oggetti ce ne sono cinque questo momento c'è il military che è il top il top indiscusso di qualsiasi oggetto se trovate militari sapete che meglio di quello non c'è civilian è quello comune insomma delle navi classiche di tutti quanti noi star citizen stealth sono per quelle navi sono comunque delle componenti che magari andranno ridurre l'emissione di calore per farvi capire perché ne so puntano quindi a ridurre al minimo le emissioni mantenendo comunque delle determinate potenzialità l'industrial ad esempio possono fare il contrario cioè non gliene frega niente delle emissioni genera tantissima energia che ne so penso adesso un generatore che comunque scalda tantissimo però genera un botto di energia perché fondamentalmente servono quelle navi industriali quindi da mining da trasporto e vi dicendo competisce nell'ultima classica in quella è riservata a quello che la gara quindi le navette quelle piccoline ma gara quindi high performance eccetera eccetera ultra sparate ok allora ragazzi diciamo che un'infarinata su quelli che sono i moduli le tipologie le classi tutto quanto ve lo data adesso dove li troviamo vi ricordo che se voi andate a noleggiare degli oggetti su arena commander rimangono su arena commander se l'andate a noleggiare su public universe rimangono su public universe allora arena commander è abbastanza facile avete appena visto dove si va noleggiate eccetera eccetera le montate e finisce lì andiamo adesso in universe e vediamo invece dove si comprano e che tipologie ci sono eccetera eccetera allora ragazzi eccoci qua grimax adesso andiamo a vedere dove si possono comprare le armi in più le armi e i moduli tutti quanti la nostra nave allora c'è da dire da precisare una cosa che su ogni station troverete moduli differenti quindi se cercate una cosa in particolare non la trovate su una station dovrete un po gironzolare per l'universo allora su grimax la station è qua dentro non c'è scritto nulla mentre su porto lì sarà l'area 18 eccetera eccetera c'è scritto d'ambert di pot li troverete tutti i moduli vedete qui sono esposti alcuni moduli trovate proprio esposti voi andate con f by evita size 0 grazie eccetera eccetera ok in alternativa se voi non lo trovate esposto che addirittura ora ci sono due stanze addirittura le condizioni sono potete andare qua sul touchscreen ok avete tutti i missili disponibili questo parliamo dell'avionica cooler power plant shield generator e le armi ok in stock eccetera eccetera vi dai soldi e tutto quanto comprate e le montate direttamente o potete montarle anche da prendendo f1 andate sulla vostra nave vehicle loadout che è il secondo tastino selezionate la vostra catlas eccolo qua la vostra catlas è sempre qui potete modificare quello che avete comprato eccetera eccetera e via dicendo allora ragazzi come al solito io direi che anche per questa guida direi che abbiamo detto più o meno tutto cioè abbiamo dato perlomeno una bella infarinata su quello che è i moduli dove si possono prendere che tipologie di moduli ci sono spero di essere stato d'aiuto anche questa volta di potervi dare una mano nel comprendere meglio quello che è star citizen per stasera è tutto ciao belli e al prossimo video ciao 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 ciao